Cominciamo prima di tutto che è uno strumento creato dalla Regione Campania per individuare una serie di luoghi nei quali incrementare l'attività del commercio e del turismo con una serie di interventi, semplicemente. Quali sono gli interventi? Sono ampli, partono dall'arredo urbano fino a tutto quello che è il mondo del turismo, quindi con degli eventi, c'è tutto, c'è tutto di più. Addirittura anche la creazione di uffici sovracomunali che vanno a fare sviluppo, quindi si potrebbe anche pensare in questo momento ad un ufficio sovracomunale per fare un ufficio stampa degno della nostra isola. Minimo 15.000 abitanti. E qui che cosa abbiamo fatto noi dell'ICAST? Abbiamo individuato due macro-arie. Abbiamo inteso di fare la prima macro-arie con tre comuni simili e anche limitrofi, Ischia, Barano e Serrera Fontana. La seconda macro-arie è quella di Casamicciola, Laccameno e Forio. Tutte e sei comuni hanno ricevuto la lettera da parte nostra di adesione al distretto commerciale tramite le nostre sigle, perché noi abbiamo presentato un pacchetto completo all'interno del quale ci sono tre sigle, due di sindacali e una di consumatori, e di sposare il nostro progetto. Noi abbiamo un progetto insieme a quello dei comuni, si mette insieme e si crea questo strumento che insieme anche a attività private che vogliono partecipare, insieme alle associazioni, e se la Camera di Commercio avrebbe il progetto interessante, potrà essere finanziato anche dalla stessa Camera di Commercio. La Regione Campana mette questi soldi che vanno tutto sui territori, quindi è uno strumento per far arrivare soldi e spendere nel miglior modo affinché poi dopo c'è il risultato che troviamo incassi negli esercizi. Questo progetto, questa formula così come è stata ideata dalla Regione ed applicata da voi, escluderebbe altre sigle di rappresentanza sindacale, di commercianti, albergatori, di altri soggetti che sono soggetti attivi, attori principali del turismo e del commercio e dello sviluppo del nostro territorio? Il nostro progetto è nostro, quindi l'abbiamo identificato noi e portato avanti noi, abbiamo fatto una serie di lavori importanti, poi se le altre associazioni hanno altre idee, altre cose, chiaramente le devono porre in essere ai comuni, perché poi non ci dimentichiamo che sono i comuni che devono presentare la domanda, i comuni che devono prendere i punteggi e quindi è un processo che parte anche, cioè soprattutto dalla politica, oltre che da noi, diciamo attività sindacali. Tempi? Massimo 10 giorni. Sul distritto commerciale, assolutamente sì, dobbiamo essere veloci.